segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te buonasera dottor crepe mano si alza il dottor crepe come posso rinunciare alla stretta io massimo ero nel buio della mia stanzetta a lume di calde molto la dolce vita color granata poi ti dico dove l'ho preso allora così non facciamo pubblicità occulta ma ero a lume di candela questa sera anzi di candelina perché la foto della settimana che mi ha colpito di più è stato è stata quella del compleanno della premier giorgia meloni scattata su una terrazza della camera non sono mancati lo spumante la torta il regalo per la festeggiata che è stato pensate un tavolo da salotto comprato dagli invitati mettendo 50 euro a testa 100 invitati ho fatto un po il conto detto fischiola che tavolino lusso proprio design sfrenato e mi ha fatto venire come fischiola espressione tipica della provincia di piacenza per esprimere sorpresa diciamo meraviglia e in realtà poi vedendo lo scatto ovviamente subito sono finito a pensare all'arte mi è venuto in mente un dipinto di john singer sergeant che racchiude un po tutti questi elementi e infatti si intitola proprio la festa di compleanno è un'opera di fine ottocento che ritrae due amici del pittore artista lui scultrice lei mentre celebrano il compleanno del loro bambino robert con questa bella tavola imbandita la figura dominante è la madre e qui dottor crepe scomodiamo un po freud forse ma la cosa curiosa è che questo dipinto ha fatto impazzire gli storici dell'arte proprio per la torta perché per il modo in cui è stata dipinta non si capisce quante siano le candeline a questo punto chiederei a voi provate a contarle ditemi quante sono perché qua c'è un dubbio c'è chi dice se la diplopia vedo dopo vedo anche quattro con la diplopia ancora peggio 7 ma la maggioranza dice 7 c'è chi dice 6 chi dice 5 un mistero ma il padre non si vedono gli occhi è questa una bella osservazione anche un po in ombra in realtà perché il pittore allora la teoria è che questa donna fosse incinta quindi sargent appunto essendo loro amico lo sapeva e voleva valorizzare la il ruolo di madre la figura della madre a proposito di madre compleanni massimo mi viene una vorrei chiedere una cosa al dottor crepe ne approfitto perché mi pare che oggi le feste di compleanno dei bambini parlavate anche voi prima di genitori no siano quasi una competizione tra madri che organizzano feste noleggiano saloni gonfiabili artisti per esibirsi ma come se lo spiega lei dottore questa questo questa insistenza matera fa parte di quella strana strano mondo in cui siamo approdati che che da una parte drammatico dall'altra parte esilerante in questo questa cosa che lei mi dice esilerante nel senso che 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 tu debba portare a no chissà quali balò è come quelli che ha di fronte a un bambino che ti chiede cinque cose per natale tu gli regali 15 cioè vuol dire essere mononeuronici perché è evidente che gliene deve regalare uno agli altri quattro saranno prodotti della sua creatività è vero e vi lascio con una un'ultima foto di compleanno questa volta ellie schlein che un paio di anni fa decide di farsi ritrarre con il suo cagnolino la vediamo qui sorridente e questa immagine mi ha ricordato invece una nobile donna ritratta da lotto nel 500 che si è fatta immortalare lei con suo marito e con potremmo dire un prozio di dudù il cagnolino famoso di berlusconi ci assomiglia no lo vedete lì a sinistra ma la cosa curiosa di questo dipinto è l'uomo che se ci fate caso vi ho anche portato un dettaglio indica uno scoiattolo e regge un foglio su cui leggiamo homo num quam ovvero l'uomo mai diciamo che l'interpretazione di questo gesto è molto discussa ma vi lascio la più curiosa secondo una leggenda medievale lo scoiattolo maschio scaccia la femmina dalla tana nella nei periodi di carestia no per avere per tenersi più ghiande quindi chi lo sa l'uomo invidia lo scoiattolo sarà per quello che la signora si tiene stretta al cane perché forse sa che almeno lui non la mollerà non so do questa interpretazione ma la domanda che mi sorge vedendo questo dipinto è ma come mai nella storia prima appunto coi quadri poi coi post sui social come l'ashline ci facciamo spesso ritrarre coi nostri animali perché è un'operazione simpatia o perché ormai amiamo più gli animali rispetto alle persone e in attesa di riscontri ma sai cosa ha colpito di più invece che avesse due torte cioè non ha scelto neanche lì quale delle tue c'è una torte di compleanno perché erano per il dubbio ne ha messo tre sei va beh la seguiremo come esempio porgo distinti saluti come al solito grazie Jacopo grazie professore